Boris Gombatz non ci sta. Alle elezioni comunali di San Dorligo della Valle Dolina nel maggio scorso, la lista civica da lui capeggiata quale candidato sindaco ha ottenuto il 7,38% dei voti, piazzandosi al quarto posto dopo la lista di sinistra, che ha rieletto il sindaco Sandy Clun, la Lega Nord e il partito della rifondazione comunista. Ora Gombatz rivela. E' stata violata in tutti i sette seggi la legge regionale, la 19 del 2013, l'articolo 62, sullo scrutinio. Questo articolo è stato violato. In sostanza vi sarebbe un errore procedurale. Le schede devono essere estratte dall'urna per lo scrutinio. Non si può aprire lo scatolone l'urna e svuotarne il contenuto. Ed è questo che dobbiamo rendere chiaro all'opinione pubblica. Gombatz avanza un altro sospetto. Cioè, se un tipo di amministrazione comunale resiste da più di 70 anni, e il problema sta anche nei seggi elettorali, nella violazione o nel rispetto della legge elettorale regionale.